i fai e matti sti qua ma quale gol che cosa hai visto no a parte che si vede abbastanza bene che che insomma sì l'arbitro ha visto io che ha voluto dare il gol non ci credo problema è che adesso spostano le porte un po troppo avanti una volta non era così una volta si giocava regolare ai miei tempi dei calciopoli mentre adesso è tutto sfalsato adesso non si può più comprare un arbitro non si può più dire darci il gol eccetera tra un po per lo spettacolo si arriverà a giocare a una porta sola o a tre calci e rigore così non si va avanti non va bene o vecchio e tu ho visto la nuova applicazione per spedire le cartoline dall'iphone e l'android o te spedisci le cartoline come una volta era te te fai la foto te invii e te arriva la cartolina vera a casa e se ci ama iscrivito ovo scaricarmela mi chamba